E c'è un problema Zaccagni? No, non ci credo Zaccagni c'è un problema Ma è un problema di tipo economico o quello di Zaccagni? No È un problema di tipo fisico? No E che problema è, signor Faida? Che non è nato in provincia di San Paolo No Perché se si fosse chiamato Zaccagni No Zaccagni Oggi verrebbe glorificato Invece no Invece no Dove è nato? Invece no Che è nato in Italia E quindi Pancio non verrà messo su 433 Tutte le pagine internazionali Ma chi capisce di calcio sa Sa quanto è forte Mattia Zaccagni Sa che questo ragazzo può essere il futuro della nazionale italiana